Allora, Giulio Fortuni, una staffetta state facendo, chiamiamola così, staffetta della salute, ecco qua lei tra l'altro anche, è l'iniziativa, ce l'hai in mano, staffetta della salute, eccola qua, in realtà di che cosa, questa però tra l'altro è a livello unitario invece questa iniziativa, mentre quella di cui parlavamo prima è solo della CISL, quella dell'articolo 436 della Costituzione raccolta firme per provvedimenti normativi per la partecipazione in azienda, questa invece che cos'è? Abbiamo ritenuto opportuno, anzi indifferibile meglio dire così, mobilitarci per salvare la sanità pubblica, che è in pericolo, ma il pericolo non è da adesso, quindi non è neanche una questione politica come qualcuno vorrebbe fare apparire, è arrivato il governo di destra, ecco che il senacato si mobilita contro, purtroppo da 15 anni a questa parte mancano finanziamenti e man mano, pur facendo grandi economie, man mano si è impoverita l'offerta della sanità pubblica, ma sono mancati 35 miliardi in 15 anni a livello nazionale, ora un bilancio per quanto grosso che sia, grasso che sia, se manca poi nelle risorse che permettono di fare tutte le attività, qualcosa la devi tagliare. Cosa è successo? Il punto di rottura è stato il periodo Covid, sono state sospese le prestazioni perché non si poteva andare in giro per gli ospedali, in quanto tutta la sanità pubblica, non quella privata, solo ed esclusivamente quella pubblica ha dovuto ospitare l'ospitalità, i casi Covid. Il privato intanto continuava a fare le sue cose, bloccate le prestazioni, si sono accumulate, accumulate, accumulate e il post Covid, con tutte le sofferenze che ci sono state, con la mancanza di personale che si è verificato, si è trovato con una montagna di prestazioni da dover sopperire. Parliamo per esempio nella Ulsa di Padova attorno alle 60 mila prestazioni galeggianti o sospese come sono state detto. Che poi dicono che li chiamano ma in realtà poi non chiamano. Il risultato è che chi voleva curarsi, ecco bisogna anche fare un distinguo però, curarsi tante volte vuol dire fare prevenzione, cioè molte delle cure tra virgolette primarie sono fatte per fare prevenzione, da verificare se ho una malattia, da controllarla farmacologicamente perché non diventi una cronicità che poi presuppone un'operazione piuttosto che un ricovero e via così. Quindi è saltata un po' questa parte della prevenzione che è dovuta a più fattori. Uno, lo abbiamo già detto, il secondo è a una medicina di base che ci ha contraddistinto, i medici di medicina generale, che ci ha contraddistinto rispetto per esempio alla Lombardia. La Lombardia ha avuto il 20% di morti in più di Covid perché la medicina di base non funziona come funziona in Veneto. Questa è una realtà. Però tuttavia in Veneto mancano ormai parecchi postazioni di medici di medicina generale, il famoso medico di famiglia. E come ha sopperito la ULS? Ha sopperito portando più pazienti per medico. Quindi dai 1500 che erano quelli dovuti per regola, per legge, li ha innalzati a 1800. Ingolfando un po'. Chiaramente uno che prende l'appuntamento al medico si sente dire che vorrebbe andare domani, si sente dire che andrà forse fra una settimana magari 10 giorni. Tenendo conto che la realtà ci dice che la precedente riforma dove si sono chiusi i posti letto all'ospedale per favorire la medicina territoriale prevedeva i centri di medicina integrata. E questi centri di medicina integrata non si sono realizzati dappertutto. Per esempio l'ULS Vicentina li ha realizzati per l'80% del territorio, nella ULS di Padua se va bene siamo attorno al 30-40%. Però questa funzionalità è ben diversa. La medicina integrata ti dà 8-20 come range di orario tutto pieno e ti dà anche il sabato. Quindi permette per esempio a chi lavora di potersi rapportare al proprio medico con una grande facilità. ha due infermieri minimo, tre anche, e ha delle piccole operazioni che piuttosto di andare al pronto soccorso le fa sul posto. Capite che è una cosa differente. Saltando questi estremi ecco che ancora di più si è rivelata, diciamo così, un po' azzoppata la nostra medicina territoriale. L'ultimo elemento sui medici famiglia è che potremo andare peggio. Perché? Perché fra due anni, entro due anni, ne abbiamo il 25% nell'Ulz Padovana, nell'Ulz 6, Ulz Ugane ha il suo nome giusto, che andranno in pensione. Con uno scarso propensione di chi oggi affronta la, diciamo così, difficile percorso di diventare medico, ci vogliono 7 anni, a diventare il medico condotto, ovvero sia il medico in medicina. Soprattutto in certi comuni, se poi lei parla, visto che lei è Padovero Vigo, è nella zona del Polesine, è difficilissimo trovare un medico disposto ad andare là. Con questa imprenditoria che non riconosce il valore della forza lavoro e con gli stipendi che ogni giorno perdono il potere d'acquisto, è ovvio che si perde il senso di appartenenza verso l'azienda. Ma di chi è la colpa? Questo messaggio fa riferimento a quanto dicevamo prima sulla partecipazione in azienda. Hanno ragione, in genere c'è una perdita del valore del lavoro. Lo si scopre adesso perché non trovano più chi va a fare il pizzaiolo o il cameriere. Ma parliamoci chiaro, quante volte gli hanno proposto un lavoro serio, regolare, seppure a chiamata o quanto sia? Se gli proponi i 50 euro in nero alla sera, tu hai già villipeso una professione, perché il cameriere è comunque una professione, il pizzaiolo è una professione, il cuoco ancora di più. Quindi ha ragione chi ha detto questo. C'è una perdita del valore del lavoro, su cui si fonda veramente la nostra performance positive dell'economia. Senza un lavoro fatto bene non c'è verso di, insomma, basta pensare alle nostre eccellenze che abbiamo sul territorio. Assolutamente. Che è la dignità della persona. È la dignità della persona, bravissimo. A questo proposito parliamo anche sempre nell'ambito della sanità. Dall'altra parte voi rappresentate anche con la funzione pubblica i medici ospedalieri che lamentano situazioni di grave disagio comunque, anche per il che riguarda loro. Sempre rifacendoci al periodo della pandemia, quelli che sono diventati eroi, e lo sono stati per davvero, perché ci sono dei medici che sono morti sul posto di lavoro per andare a curare le persone. Ripeto, la sanità è stata salvata, il Covid ci ha salvato la sanità pubblica. Se non fosse stato per una forte sanità pubblica, noi tanto di cappello, assolutamente dobbiamo salvare la sanità se non altro per questo. Però quelle stesse persone stanno lì che aspettano da anni un rinnovo del contratto di lavoro. E poi è assolutamente normale che un giovane pimpante che ha fatto i tre anni di laurea breve infermieristica vada a lavorare in Germania, a Monaco di Baviera, al doppio minimo, al doppio dello stipendio di quello che si prende qua. Certo avrà qualche spesa in più, è vero, ma è assolutamente un vantaggio eccezionale e addirittura è molto più considerato. Quindi è molto importante che si abbia questo perché alla fine è vero che mancano i soldi. Il picco massimo di stanziamento sulla sanità è stato l'anno scorso, 136 miliardi da parte appunto di tutto lo Stato che poi vengono suddivise in procapite alle regioni. Ma una buona parte di questi se li sono mangiati l'aumento delle bollette e quindi siamo ritornati a coveravamo, cioè ai 100-110 miliardi di euro che non bastano per fare una seria programmazione, cosa che manca da tempo, perché ci sia il personale giusto, adeguato, medici, infermieri, OS, operatori sociosanitari, che vada a coprire tutte le postazioni che man mano si rendono liberi. Tenendo conto di un fenomeno, mentre una volta l'infermiere era un lavoro ambito, poi era un lavoro sicuro, mica mi licenziano, vado nel pubblico e via. Adesso ci sono persone che grazie ai carichi di lavoro, hai finito il turno, beh guarda che ti richiamo perché abbiamo da coprire un turno, c'è uno malato, c'è una maternità, bisogna fare, no? E abbiamo però dall'altra parte che lo stress non può essere all'infinito, perché una persona dopo scoppia qualcuno preferisce andare a lavorare in fabbrica, preferisce andare a lavorare in un servizio al comune o qualcosa del genere. Quindi si è proprio rovesciata perfino questa storia. Quindi riconoscimento della professione, riconoscimento del valore anche economico della professione, programmazione per coprire prima del tempo tutti i buchi che si renderanno necessari coprire. E dopo parliamo della sanità territoriale che è il capitolo del riscatto. Esatto, esatto. Allora non parleremo della sanità territoriale perché il tempo è letteralmente volato e appunto poi è indispensabile poter accedere alla sanità pubblica perché quella privata ha dei costi effettivamente, se forse altro per le diagnostiche che sono con le liste d'attesa, abbiamo dimenticato, è anche le liste d'attesa, con le liste d'attesa notevole invece se vai privatamente immediatamente si liberano i posti. Allora, dobbiamo interrompere, magari riprenderemo questi fili perché sono molto importanti, quindi grazie Samuel Scavazzin, segretario della CIS, Padovero Vigo, per quanto riguarda l'articolo 46 Costituzione, raccolta delle firme presso le sedi e poi ci saranno le aperture anche ai mercati, Padovero Vigo, quindi ricordatevi, seguite la questione per la partecipazione in azienda. Grazie a Giulio Fortuni, FNP, CISL per la staffetta della salute, ovvero le manifestazioni organizzate anche a livello unitario per una salute pubblica migliore e per tutti. Grazie a entrambi, grazie a voi cari telespettatori per averci seguito, appuntamento come sempre domani, la puntata di replica sul nostro sito. Bene.